Cosa sono i bracciali al cancro al seno? È diventato comune per le persone dire al mondo le cause che sono vicine ai loro cuori attraverso i gioielli. Ciò che è iniziato con le spille colorate del nastro si è spostato in altri tocchi decorativi come il cancro al seno. I più famosi braccialetti per il cancro al seno sono una semplice fascia di gomma rosa che si estende per adattarsi a qualsiasi polso. C'è un messaggio ispiratore inciso in ogni braccialetto, come condividi bellezza spray dopo i wheel. Tendono ad essere più popolari con i portatori più giovani, ma chiunque può apprezzarli e il loro messaggio. Questo stile di bracciale è iniziato con il design giallo Livestrondi Lance Armstrong che ha raccolto fondi per la ricerca generale sul cancro, e altri stili seguiti rapidamente. Questi braccialetti sono popolari perché sono economici, ma eleganti e molti danno il 100% dei proventi alle loro rispettive cause. Puoi acquistarli online da alcuni rivenditori. Altri tipi di braccialetti del cancro al seno sono più vicini alla gioielleria? Possono anche visualizzare messaggi come l'UVOPFET e ci sono una varietà di stili, dal cristallo fino all'oro. Alcuni combinano l'idea del braccialetto del cancro al seno con il nastro rosa della consapevolezza del cancro al seno, forse su un fascino. Anche se di moda, questi tipi di braccialetti per il cancro al seno possono essere adatti per regali e ricordi. La quantità di denaro donata per ogni acquisto varierà da un'organizzazione all'altra. Come i braccialetti di gomma, sono anche disponibili da alcuni rivenditori e online. Mentre i braccialetti del cancro al seno assumono diverse forme, sono uniti negli obiettivi di onorare a coloro che hanno combattuto la malattia e promuovere la consapevolezza. Se vuoi dire al mondo che sei sopravvissuto il cancro o pensi solo che sia un argomento importante da tenere a mente e da sostenere, i braccialetti per il cancro al seno possono adattarsi alla legge.